Scusi, come se ti vede per il maggiolo di prima domanda? Andiamo qui, andiamo su un nuovo. Allora andiamo su un petto. Eccomi qua. Adesso aspettiamo. Ecco di me. Mi piace questa storia. Mi piace questa storia. Mi piace questa storia. Cosa? Che cavolo? Come questi due sono morti. Vabbè. Io ho avuto player. Quindi non viene eliminato nessuno, vero? E' un'ebasurale master. Io sto con la楽 ArchWi. Qui si va tir buscando i nostri, i nostri. Diccio. Ambra! Ah, non arrivarò che diventa. E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? Ma perché mi buttano sempre? Grazie a tutti. 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 Blue. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Oh no. Ciao. 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 Ciao.